Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma ci sono code attratti per il traffico intenso tra il Bivio con la 11 e Arezzo. In A11 i rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e il Bivio con la 1 in direzione Firenze. Spostandoci sulla FIPILI code per viabilità esterna che non riceve in uscita la strassigna provenendo da Firenze. Per quanto concerne le statali sulla 67 Tosco-Romagnola rallentamenti per un senso unico alternato per lavori tra Empoli e Santa Maria in entrambe le direzioni. Sulla statale 1 Aurelia chiusura di una corsia per lavori tra Garavicchio e Pescia Romana in direzione sud. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!